Torna questo primo sabato di dicembre la rubrica dedicata alle piccole e medie imprese del nostro territorio. Come sempre siamo tornati a sentire il consulente Alessio Iovino per tutti gli approfondimenti di oggi. Questa settimana parliamo del bando fare imprese in Sicilia. Finalmente da qualche giorno è stato pubblicato ed è una misura che dà la possibilità di accedere a un contributo a fondo perduto pari al 90% del progetto ammessibile. Possono partecipare al bando tutte le persone fisiche che abbiano l'età compresa tra i 18 e i 46 anni non compiuti. Le imprese già costituite da meno di 36 mesi. Quota di maggioranza appartenga a soggetti che abbiano l'età compresa tra i 18 e i 46 anni non compiuti. Possono partecipare tutti i settori ad eccezione del settore pesca e della produzione primaria di prodotti agricoli. La domanda sarà possibile compilarla a partire dal 16 di gennaio e fino al 2024 e fino al 19 febbraio 2024. Compilare sul portale dell'IFIS sarà pubblicato il link e a partire dalle ore 10 del 20 febbraio 2024 sarà possibile effettuare l'inoltro. Funzionerà come un click day però le domande verranno rivalutate sulla base anche del quota parte che verrà finanziata dal soggetto promotore. Il progetto può avere una spesa massima pari a 300.000 euro e una spesa minima di 50.000 euro. Sopra o sotto questi valori non è possibile inserire e compilare la domanda. Se non presentiamo la domanda è sicuro che nessuno ci darà nulla e nessuno ci regala nulla. Per quanto si possa credere poco nel click day comunque è un buon sistema. Quest'anno la regione oltre al click day tiene conto anche della quota di capitale che verrà messo dall'imprenditore che crede nel progetto. Un'ulteriore aiuto per far sì che più pratiche possano venire finanziate.